C'è tutto il tempo per recuperare ma non ha ancora il passo da grande, specie all'Adriatico dove non riesce proprio a decollare. Appena 5 punti, bilancio magro, una vittoria all'esordio con l'Ancona a fine agosto, due pareggi e un K.O. con la Reggiana. Per trovare in C un cammino peggiore bisogna tornare indietro di ben 53 anni. Campionato 1968-69, 4 punti in altre tante gare. Avvio insomma non in linea con le ambizioni e le potenzialità della Rosa. Purtuttavia per Auteri non esiste un problema casalingo e neanche di modulo. Non c'è secondo me un problema casalingo e poi comunque la squadra complessivamente sta bene. Noi abbiamo bisogno di fare i punti, quello sì, ma ci mancherebbe altro. Noi abbiamo tutti i problemi tranne quello di modulo perché lo abbiamo già fatto anche in queste otto partite. Però fra le due cose, dal punto di vista della gestione delle transizioni negative, quindi la perdita del possesso che tutte le squadre hanno, se stai a tre sei un po' più giudizioso ed equilibrato. Prima del Modena, martedì ore 21, c'è la fermana. Fuori Drudi e la febbricitante Rizzo Frascatore ha recuperato. Tornano a disposizione di Gennaro e Diambo. Auteri ha provato il 4-2-3-1, 4-3-3 in fase di non possesso. Se così fosse, di Gennaro tre pali, Cancellotti, Ianes, Ingrossa e Frascatore in difesa. Diambo e Pompetti a metà campo, Memusciai sulla tre quarti esterni, Clemenza e Dorsi a supporto di De Marchi. In fase difensiva 4-3-3, Memusciai-Mezala. Fermana penultima in ripresa ma con tante assenze. Out Marchi che in passato contro il Pescara ha realizzato 4 gol, 2 col Porto Gruaro, 1 con Triestine e Sassuolo. Squalificato il regista capece ex Lanciano. Non al meglio, Sperotto, Frediani e Cognini. Assai probabile il cambio di modulo, dal 4-3-1-2 al 3-4-2-1. Il possibile 11. Il 42enne Ginestra ex Noterisco Trepali. Urbinati, Blondet e Rodio nel cuore della difesa. Sulle fasce Rossoni e Mordini. A centrocampo Mbaie e Graziano ex Teramo. In attacco Pannitteri e Lovaglio alle spalle di Nepi. Sembra una squadra tipo la Vispesero, ecco. Tanto per stringere un po' il discorso. Quindi squadra che è molto solida e molto attenta dal punto di vista difensivo. Spesso questa palla potrà stare anche in aria perché il loro modo di giocare prevalentemente è questo. Anche quello di andare a giocare sulle seconde palle. Quindi ci aspetta questo tipo di partita. Dovremmo essere bravi a stanarli, a destabilizzarli, a non perdere mai gli equilibri e a dare continuità al gioco d'attacco. In totale sei precedenti, altrettante vittorie del Delfino. L'Adriatico nelle immagini campionato 99-2000 Serie B, Biancazzurri si impongono in rimonta. Fine primo tempo sulla 2-1 per la fermana rete di Zanini e doppietta di Fanesi. Galeone sorprende tutti. Tripla sostituzione dentro Palumbo, Allegri e Giacobbo. Zanini pareggia, sorpasso di Palumbo e gol capolavoro di Max Allegri. Stagione 2001-2002, prima giornata di Serie C. Il Pescara di Ivo Iaconi travolge la fermana di Dino Pagliari, che dopo l'1-0 di Tacconelli sbaglia con Lemme il rigore del possibile 1-1. Santarelli sugli scudi, rosso per Bonfanti, ospiti in 10. Nel finale la prima doppietta tra i professionisti del 19enne Daniele Croce, subentrato in corso d'opera. La stagione successiva, 16 febbraio 2003, ultima sfida tra Pescara e Fermana. Altro tris biancazzurro grazie alle reti di Cecchini, Giampaolo e Apa su cross di Maggiolini. Per gli ospiti il momentaneo 2-1 siglato da Massimiliano De Silvestro, ex Salernitana.